Più che positivo il bilancio del lavoro portato a termine dall'Ambulanza del Mare che nella scorsa estate ha servito le coste di Montesilvano, Pescara e Francavilla. Su attivazione della centrale operativa 118 sono stati eseguiti 49 interventi dei quali 34 sulla fascia litoranea. Di questi la maggior parte hanno coinvolto la zona di Pescara Nord con la fascia oraria del pomeriggio più impegnata. Grazie alla presenza di un infermiere presente in gran parte dei servizi spesso le persone sono state assistite e medicate sul posto scongiurando il trasporto in pronto soccorso e alleggerendo così di fatto anche lo stesso presidio ospedaliero del Santo Spirito. Abbiamo messo in piedi questa iniziativa per dare supporto alla cittadinanza e ai bagnanti che sono venuti in spiaggia. Sappiamo benissimo che più mezzi disponibili ci sono e meglio funziona il sistema di prevenzione. Noi siamo il sindacale italiano Balneari che aderisce anche e collabora con la società nazionale di salvamento e con la cooperativa di Bagnini e quindi per noi la prevenzione è il primo comandamento. Cosa fare? Abbiamo detto lo scorso anno che abbiamo trovato una somma da investire e abbiamo fatto questo primo passo. Questo non significa che l'anno prossimo non ripetiamo, anzi abbiamo detto pure che durante la stagione estiva mettevamo in piedi anche un'altra unità operativa, lo abbiamo mantenuto, questa promessa l'abbiamo fatto. Per l'anno prossimo sicuramente cercheremo di fare di più, di dare più giorni, più disponibilità. È chiaro che tutto questo lo si è potuto fare grazie all'aiuto della LIFE che è quella organizzazione che ci è venuta, ha collaborato con noi, le forze dell'ordine, la capire di porto, i carabinieri, la polizia, i vigili del fuoco, cioè hanno dato il contributo a noi, ma l'hanno dato alla comunità insieme. Allora l'obiettivo qual è? È quello di lavorare sempre di più pubblico e privato. Il privato che da una parte deve fare attività privatistica, cioè fare attività imprenditoriale, però all'interno del proprio bilancio dell'attività imprenditoriale ci deve stare una parte per un bilancio sociale e noi riteniamo che questa quota debba essere riservata per ogni anno a questa attività di prevenzione, cioè di tenere sul nostro lungomare l'ambulanza cosiddetta, chiamata l'ambulanza del mare.